Si invoca l'invio dell'esercito e si chiede la convocazione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La richiesta dell'esercito proviene dal movimentismo civico, mentre al prefetto di Cosenza si è rivolta il sindaco di Rosseto Capospudico, Rosanna Mazzia, al fine di allertare le istituzioni preposte in ordine al perseverante attacco della malavita organizzata al tessuto sociale ed economico. Presse di mira le imprese, tra queste quelle impegnate negli appalti pubblici per il terzo megalotto della sedale 106 Ionica, Rosseto Sibari ed il nuovo ospedale della Siberitine. Aziende, piccole e medie imprese sembrano essere assoggettate al pizzo, altri invece si oppongono ma ne pagano un prezzo. Atti intimidatori e incendiali, omicidi, tentati omicidi, furti, rapine, aggressioni in pieno centro. E questo lo scenario contro cui le forze dell'ordine sotto organico sono chiamate a combattere, ma la battaglia si conferma davvero difficile. Ascoltiamo alcune testimonianze tra i cittadini. Si respira un clima pesante, l'appello alle istituzioni qual è? Sembra lo stesso, maggiore presenza e mi rendo conto che c'è pure un clima di sfiducia verso le istituzioni, questa è la cosa più brutta. Come cittadini possiamo avere tutti paura, le persone non hanno più lavoro, non so dove andare con la testa e quindi ognuno ha problemi. Se c'è qualcuno che ancora c'è qualche vecchietto a casa, vecchietto per dire genitore, così di, ancora ce l'ha fatta, ma se no altro che dimmi dove deve andare una persona. Certo, la presenza dell'esercito potrebbe sicuramente lanciare un segnale di presenza da parte dello Stato. La nostra truppa ha incontrato molte resistenze, prevalentemente tra i commercianti, molti dei quali si sono sottratti e si sono chiusi dietro il silenzio. C'è la paura, c'è tanta paura, quelle che stiamo attraversando, purtroppo non possiamo fare altro, questo è. E solidarietà a tutti gli imprenditori che sono stati vittimi di questi attacchi vili, attacchi purtroppo omertosi, non bisogna abbassare la guardia perché dove lo Stato arretra e la criminalità avanza. Io voglio aprire una parentesi ancora del Tribunale perché ci sentiamo anche abbandonati dalle istituzioni. Un conto è avere un Tribunale qua, un conto è avere la Castrovillari. Dove si può dire dove lo Stato arretra e l'andrangheta avanza. La storia dove la gente è abituata a certi fatti di cronaca e rischiamo purtroppo che passano inosservati certi fatti. Sicuramente è un momento difficile, ci siamo rialzati dopo la pandemia ma comunque siamo molto preoccupati di tutto quello che sta accadendo. Dopo quello che sta succedendo, speriamo che cambino un po' le cose perché abbiamo paura di uscire, eppure noi cittadini dobbiamo cercare di aiutarle le istituzioni, collaborando. Grazie a tutti.